Se fino a 15-20 anni fa era una possibilità direi quasi remota o comunque tenuta in poca considerazione, ad oggi non è più così. Essere hackerati è divenuta una realtà all'ordine del giorno e che sia tu un professionista, un privato o magari anche il CEO di una grande realtà internazionale non fa alcuna differenza. Rischiamo tutti allo stesso modo. E se ora stai guardando questo video significa che sei ben consapevole della cosa se non addirittura una vittima. Hai preso un virus e vuoi liberartene? Temi di essere sotto attacco ma non lo sai con certezza? Oppure vuoi fare soltanto un controllo preventivo per fugare ogni dubbio? Vuoi conoscere i campanelli d'allarme a cui fare attenzione? Se la risposta è sì ad almeno una di queste domande, congratulazioni sei nel posto giusto. Ma prima di cominciare, come sempre, se non l'avete ancora fatto vi invito a seguirci su tutte le nostre pagine social e ad iscrivervi al canale per supportarlo attivamente. Ed altrettanto ricordatevi anche di attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle ultime pubblicazioni. Ogni giovedì ore 12.30. Perché può capitarci di essere hackerati? Una domanda forse semplice ma alla quale trovo giusto rispondere anche perché mi permette di andare ad introdurre il prossimo argomento ovvero quello della prevenzione. Ma andiamo per gradi. Le ragioni sono fondamentalmente sette. Profitto finanziario puntano ai nostri averi. Furto di dati personali, un classico intramontabile. Spionaggio, ma se non siete James Bond o qualcuno di importante è difficile che possa essere il vostro caso. Vandalismo e sabotaggio, non avete idea di quanti si divertano ad accherare la gente per il puro gusto di rompergli le scatole. Ragioni ideologiche e politiche, si spiega da sola. Vulnerabilità di sistemi, in soldoni un sistema informatico fallace che permette l'accesso a chiunque. E infine l'ingenuità degli utenti perché si spiace dirlo ma in molti casi è proprio colpa nostra che clicchiamo dove non dovremo assolutamente. Parliamoci chiaro gente, l'unico modo per non incappare mai in questo tipo di problematiche sarebbe quello di buttare nel pattume tutti i vostri dispositivi e andare a vivere col grince sul monte briciolaio. Per cui quelle che vi darò nei prossimi minuti saranno una serie di tips di diciamo linee guida che vi saranno estremamente utili per abbassare sensibilmente il rischio di essere accherati. Prima cosa gente non mi stancherò mai di ripetervelo, cliccate solo su ciò che conoscete e utilizzate solamente programmi scaricati da fonti ufficiali. Cioè sia chiaro, attenzione, non sono qui per farvi la paternale, ci mancherebbe. Se volete scaricare tutti i software craccati di questo mondo, fatelo. Cioè non sono certo io che devo impedirvelo. Ma se non sapete dove mettere le mani, state fermi ed evitate di fare del casino. Anche perché, piccola parentesi che ci tengo a sottolineare, nella maggior parte dei casi vi fate del male da soli. Cioè sarebbe come mettersi a dondolare sull'altalena con le mani così messi e con le braccia incrociate. Cioè è ovvio che vi schiantate per terra. Altrettanto poi volete guardarvi film e serie tv in streaming? Anche qui personalmente non ve lo consiglio, ma se proprio dovete evitate di cliccare su quella miriade di banner pubblicitari che vi si sparano in faccia all'apertura del sito. Non attivate le notifiche, non attivate la posizione e soprattutto non cliccate su alcun link né tantomeno scaricate alcun che da alcuna parte. Nenche meno quei pacchetti che trovate pubblicati su servizi cloud come Mega e Google Drive che qualche sconosciuto ha gentilmente deciso di mettere a vostra disposizione totalmente gratuitamente. Suonava malissimo. Però ci siamo capiti, no? Tre vi prego gente vi scongiuro imparate a creare le password e roba come 1, 2, 3, 4, 5 password o password 1. Non sono credenziali valide. Minimo 8 caratteri di cui almeno una lettera maiuscola, almeno una lettera maiuscola, almeno un numero e almeno un carattere di punteggiatura. E se avete paura di scoldalvere vi rimando al nostro precedente video inerente il miglior password manager gratuito multipiattaforma del mercato, il quale se vi siete persi come sempre vi lascio linkato sia on screen che qui sotto in descrizione. 4. Mantenete aggiornato il vostro sistema operativo ed appoggiatevi soprattutto ad un software antivirus e fosse anche soltanto il gratuitissimo Windows Defender. Assolutamente di tutto rispetto. E soprattutto fate attenzione alle sue notifiche. Non è lì per rompervi le scatole ma per aiutarvi a restare al sicuro. E se si fa vivo è quasi sempre per farvi presente che qualcosa non va. E infine 5, anzi forse in questo caso sarebbe meglio dire 4 bis. Se non l'avete ancora fatto impostate il vostro antivirus di modo che esegua periodicamente delle scansioni complete del vostro sistema operativo. Perché come si suol dire prevenire è meglio che curare. Bene gente, veniamo ora al nocciolo di questo video, ovvero i campanelli d'allarme. Tolte ovvietà come i programmi che si aprono da soli o il puntatore del mouse che si muove in giro come avesse vita propria, la prima cosa a cui fare attenzione sono le prestazioni. Cioè se utilizzate abitualmente il vostro computer sapete come si comporta, sapete quanto tempo ci mette per avviarsi, per avviare questo o quell'altro programma, per eseguire backup e roba simile, giusto? Ecco, se queste tempistiche dovessero aumentare improvvisamente e senza ragione alcuna, o almeno senza ragione apparente, potrebbe essere colpa di un virus. Come però anche, va detto, di un malfunzionamento del computer stesso. Per cui gente, mi raccomando, non fasciatevi la testa prima di esservela rotta. Sintomi di questo tipo significano sempre che c'è qualcosa che non va, ma non per forza potrebbe essere colpa di un attacco hacker. Allo stesso modo poi anche i famosi PSO dei Blue Screen of Death che tutti purtroppo ben conosciamo, cioè un ogni morte di papa ci può anche stare, ci mancherebbe altro, anche a me sono capitati, ma se avvengono con troppa frequenza non va assolutamente bene, di quanto essi stanno ad indicare che il sistema operativo ha riscontrato un errore irreversibile che lo ha portato obbligatoriamente a riavviarsi. Secondo gigantesco monumentale campanello d'allarme, antivirus o firewall disattivato. Mettiamo caso ancora che vi appoggiate al caro vecchio Windows Defender. In basso a destra sulla barra dell'applicazione avrete questo simbolino a forma di scudo bianco o blu, a seconda che utilizzate Windows 10 o Windows 11, con un cerchietto di colore verde, giallo oppure rosso. Verde è tutto che Yakuna Matata, lunga vita e prosperità, insomma ci siamo capiti, nessun problema. Giallo così così c'è qualcosa che non va, portateci il vostro cursore del mouse sopra, cliccate due volte e guardate cosa da chiedervi. Nella maggior parte dei casi si tratterà di notifiche informative oppure della richiesta di riavviare un dato componente per permetterne la corretta esecuzione. Leggete bene, dategli una certa interpretazione, un certo peso, ma solitamente vedrete che non è nulla di particolarmente allarmante. Rosso mega cacca, problemone allarme generale. Quando si vede questo colore significa che l'antivirus e probabilmente anche il firewall sono stati disattivati e qualora non sia una consapevole opera vostra vedete di farlo ripartire al volo, solitamente mediante un apposito tasto che trovate on screen all'apertura dell'antivirus. Funziona e ritorna tutto verde? Bomba ragazzi, grandioso, correte in chiesa ad accendere un cero. Non funziona, tentate con un riavvio del computer. In alcuni casi può essersi semplicemente imbananato e il riavvio gli permette di rifresciarsi, di diciamo riminchiarsi, di riprendersi. Questione di cui abbiamo già parlato in uno dei nostri precedenti video e che vi lascio linkato come sempre sia qui sotto in descrizione che on screen. Mi raccomando non perdetevelo. E se anche in questo caso dopo il riavvio resta comunque disattivato, la possibilità che abbiate infilato entrambi i piedi in una mega boazza di nuca sono discretamente alte. Non ve lo nascondo. Terzo campanello d'allarme è la presenza di programmi che non avete installato voi. Prendete questa abitudine, ma davvero saltuariamente non è necessario farlo ogni settimana, di fare un salto sul pannello di controllo nella sezione programmi oppure nel menu app delle impostazioni e dare un'occhiata cosa è installato nel vostro computer. C'è qualcosa di nuovo che la volta prima non c'era e che non avete messo voi? Ecco, in quel caso prendetevi giù il nome e fate un giro sul web oppure chiedete al parente informatico che c'è in tutte e quante le famiglie per capire di che cosa si tratta. Spesso e volentieri sono puri programmi che si sono, diciamo per dirlo in maniera banale, installati di sottecchi mentre stavate installando un altro programma che vi interessava e quindi basta banalmente cavarlo di mezzo e tutti felici. Mentre invece in altri casi si tratta di programmi davvero malevoli per dire il termine più corretto per cui lì ecco sarebbe il caso di preoccuparsi. Quarto campanello d'allarme un po' più per smanettoni ma comunque interessante ed importante da verificare, controllare il traffico di rete. Si può fare in molti modi e con finalità differenti ma io personalmente ve ne consiglio due, lanciare il comando netstat da prompt oppure appoggiarsi ad uno dei tanti software che esegue questo servizio specificatamente come ad esempio quello di casa Microsoft. Se notate attività anomale come connessioni sospette verso indirizzi IP sconosciuti oppure una quantità eccessiva di dati in uscita potrebbe stare ad indicare che un software malevolo sta trasferendo dati da o verso il vostro dispositivo e quindi problemone. E quinto ed ultimo campanello d'allarme è anche qui un po' per smanettoni controllare la presenza di processi sconosciuti in azione sul nostro computer. Aprendo il task manager o gestione attività che dir si voglia è possibile verificare nel dettaglio tutto ciò che sta girando nel nostro computer e nel caso arrestarlo immediatamente. Uno tra i principali a cui dovete porre attenzione sono i processi così denominati PowerShell dato che a meno che non ne abbiate avviato uno voi consapevolmente di norma non ce ne dovrebbero essere per cui se ne identificate uno fate come il vecchio Sfarsi e terminatelo. Ok gente abbiamo appurato la presenza di un software malevolo oppure ci siamo accorti che qualcosa non va? Che cosa facciamo adesso? Prima cosa spegnete subito il computer questo perché nel caso in cui l'hacker in questione fosse riuscito a trasferire nel vostro computer uno script un come dire un programma che esegue determinate funzioni in automatico ci dai passatemela come definizione a pelli così non me ne viene una migliore di genere ad esempio CryptoLocker come quelli questo nome l'avrete già sentito nominare negli anni passati che vanno a criptare i dati contenuti nel nostro hard disk e ci permettono di accedervi nuovamente soltanto dopo aver pagato un bel po' di dindini oppure altri che vanno proprio a tritare il contenuto dei nostri hard disk rendendo irrecuperabili dati al suo interno ecco tenendo acceso il nostro dispositivo gli daremo libera possibilità di agire e fare casino. Allora se vi capita in ufficio 99 su 100 il vostro reparto IT è già pienamente consapevole della cosa e stanno arrivando di gran carica per risolvere il tutto e mettervi in croce se così non è invece avvisateli al volo vi prego. Se invece vi capita a casa nel privato il mio consiglio personale è di rivolgersi ad un professionista cioè nulla a togliere al famoso parentes manettone barra informatico che abbiamo tutti in famiglia ma quando si tratta di questioni così delicate è meglio darlo in gestione a qualcuno che sa bene dove mettere le mani perché veramente potreste perdere i vostri dati nel tempo di uno schiocco di dita. Bene people siamo giunti alla fine di questo ennesimo video in cui spero di avervi aiutati a capire qualcosa di più sull'argomento torbido della sicurezza informatica anche se indiscutibilmente da un punto di vista estremamente basilare ma altrettanto mi auguro vivamente che questi miei consigli possano prima o poi tornarvi utili per proteggere la vostra sicurezza. Vi è mai capitato di essere hackerati? Avete mai preso un virus? E se sì cos'è successo? Ne siete usciti lesi oppure la cosa è finita molto male? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti sono sempre curioso di sapere la vostra opinione e mi raccomando se il video vi è piaciuto ricordatevi di spolliciarlo prima di andare via. Io sono Doc, questo è IT Support e noi ci vediamo giovedì prossimo alle 12.30 con un nuovo episodio e mi raccomando non cambiate canale. Grazie a tutti.